Siamo pronti qui alla Vernasca, a Sintorragli, con un parco auto fantastico. C'era giunti anche Enrico dell'Eddy Motors. Da dove vieni con le Porsche che hai stravinto ovunque? L'ultima gara l'abbiamo fatta a Misano, Imola, adesso andiamo al Mugello. Abbiamo solite gare, siamo in piena stagione, quindi abbiamo dei testi. E qui alla Vernasca la Silver Flag che stai facendo? Alla Vernasca sono coinvolto come Classic, una vettura iniziata con la Iso Grifat 3C. E il pilota chi è? Il pilota abbiamo Teddy Bustin che io ho conosciuto, oltre a fortuna di conoscerlo, sia nella Formula 3 europea, fino agli anni 70, che in Formula 1. Il debutto a Spa era il nostro vicino di box e lui era Solaro, lo sponsor Luis de Porter che vi ho ricordato adesso. Che be' tempi, uno ricorda nel 91 a Imola. Caro ingegnere, mi pare che qui la giuria ha fatto un lavoro eccezionale. Stiamo lavorando, le macchine sono tante e di grandissimo livello e quindi anche il nostro lavoro è piacevolmente complicato perché abbiamo da scegliere tra tante macchine molto interessanti e quindi staremo a vedere. C'è un quartier fenomenale, quest'anno è una cosa eccezionale, ma quanta gente, strapiena. E quest'anno abbiamo 5 giapponesi anche, che sono penulti dal Giappone, con le loro macchine. Ho visto anche il direttore di Car Graphic, che è una delle maggiori riviste giapponesi del settore dal 1962. Quindi anche una delle riviste più artistiche. Incredibile, venuto dal Giappone per fare delle interviste, vedere queste auto, la Iso Grif A3C, la Cooper, la Stratos. Certo, certo. Incredibile, incredibile. Grazie. Grazie.